Buongiorno ragazzi, anche per chi supporto Royal 4 mi illustro un po' come ho strutturato adesso le varie rotte commerciali, in realtà ne ho ancora una istituita poc'anzi, perchè ho acquistato alcune navi nuove tra cui quelle militari, e se non ero qui dovrebbe essersi pronta anche un'altra imbarcazione la fregata non penso che sia fregata, non credo che sia questa vediamo un attimo eccola qui ok, 500 penne, la flute mi sembra la flute, che la portiamo subito a destinazione a Sivilla, così da lì poi facciamo partire tutte le spedizioni e iniziamo anche a interagire con le altre colonie vediamo l'Inghilterra, l'Olanta vabbè, comunque portiamo la Sivilla ok, la rotta commerciale che io ho al momento è questa qui che ha tutta la costa l'imbarcazione è quella dei Cunies, ho messo in nome dei Cunies perchè sono un appassionato dei Cunies e infatti è una nave militare vedete, 22 cannoni e ho anche la Willy Lorbo che sarebbe il vascello sempre dei Cunies dove viene trovato il tesoro capito? chi è che non conosce Cunies quindi non mi prolungo oltre il dovuto le mie spiegazioni comunque la prima rotta commerciale prevede tutta questa costa qui fino a Maracaipo che è la città del nostro vicere che dobbiamo soddisfare ampiamente poi ho iniziato anche ad acquistare dei possedimenti su Sivilla posso produrre queste 4 ho queste 5 produzioni ma 3 in realtà sono le mie tutteto, cotone e tabacco qui ho un possedimento di legname su Sisal qui abbiamo la birra poi ho anche altri possedimenti che adesso mi sono tutti quanti annotati perchè poi devo fare in modo che intersecando il tra di loro fruttino a Chapecea abbiamo la birra poi a Sisalegno a Sevilla a Porto Cabezas abbiamo caffè e cacao questi sono al momento quelli che ho a disposizione che mi serviranno per poter in qualche modo soddisfacere le esigenze innanzitutto di Sevilla la mia città d'origine poi di Maracaibo e in realtà poi anche di tutte quante le altre come vedete hanno un soltanto quadratino cacao vuol dire che non sono molto rifornite anzi Sivilla è al secondo Maracaibo invece è terzo o quarto comunque adesso inizio a creare delle rotte commerciali per far interscambiare le merci tra le varie nazioni questa è la mia flotta ci sono tutte quanti da 500 500 500 che sarebbe il numero dei beni che poi devo trasportare bisogna mettere i marinai a bordo l'unica più grande è la Tecunies è la Cunies che ha 2350 beni trasportabili adesso dovrò mettere i marinai a tutti quanti e partire per le altre rotte commerciali però quella che voglio innanzitutto abbiamo delle missioni qui devo creare consigli di due attività per la produzione di zucchero attualmente è 0 di 2 su Bluefields eccola qui io qui dovrei avere due o no? ah no devo pagare devo pagare 60.000 soldoni per poter costruire lo devo fare per forza non ho neanche molti soldi però lo devo fare ok adesso dovrei costruire il zucchero vediamo un attimo però se loro già ce l'hanno che se è acquisto l'occhio non lo vedo la triva proviamo una però non posso acquistarla devo aspettare un pochettino no niente vabbè andando a comprare la concessione poi al vice re dovrei anche perché mi chiede ho anche tre punti fama che sono importanti e non sono neanche facili da ottenere queste sono le concessioni che io posso al momento solo la birra posso produrre spendendo un punto fama vabbè ragazzi allora tutta bar ah tutte quante alla blue fields ah ok hai prodotto un totale di mille ah anche room devo produrre cavolo devo produrre anche room room io lo metterò non so dove vediamo se c'è qualche isola qui vicino che lo produce acquisterò a limite non ce n'è nessuna vicino eccola qua ma forse posso costruire no mi serve una concessione pure qui vabbè ragazzi niente io devo ancora studiare questa cosa perché non mi fa costruire è strano neanche mi fa comprare però ok potrei aumentare la tua fama vendendo i beni di cui la città non cesse livello di vivimento minore di 2 quindi per questo motivo qui molto tempo la città mancano alcuni beni potrai vendere da lì bene una città fresso molto alti perfetto questo è quello che farò adesso perché bisogna acquistare fama o quantomeno bisogna acquistare prestigio presso ogni città affinché poi ti venga rilasciato la concessione e quindi evangelista lo terrò a nota affinché poi possa produrre room qui per il terzo quarto incarico va bene ragazzi io adesso 34.000 sembra che qui viva un'eremita a giudicare dagli abiti che intossa deve essere stato un capitano in passato saluti anche se mi sono ritirato sono risposto a impartire delle lezioni a uno dei tuoi capitani per aumentare la sua esperienza in campo chiedo un compenso a proposito appropriato 34.600 non ci sono con voi in selezioni le vicinanze ho rifiutato caspita caspita avete sbagliato a spingere va bene ragazzi continuo io continuo in questo gioco che per me è meraviglioso perché è molto strategico è molto diciamo anche abbastanza complicato non pensavo che fosse più semplice ma in realtà si è verificato complicato per quanto riguarda l'andamento poi del commercio le esportazioni importazioni i vari incarichi non ho ancora effettuato nessuna battaglia navale quindi non saprei dire che ha riguardo a esprimermi rispetto a Porta Iora 2 ovviamente è stato ampliato nelle risorse ovviamente la grafica è stata migliorata è un po' come quella di Tropico diciamo ma del resto la Calypso è la stessa casa produttrice però la grafica è accettabile è peccato che non ci siano animazioni questo mi dispiace a Tropico si vedevano le animazioni qui mi dispiace che non ci siano i paesani o almeno che io non li vedo invece sulla nave se non erro sulla nave dovrebbe vediamo un po' la Cunies ah perché ok scusate che stava in in pausa proprio di questo non mi fa inquadrare penso che qui siano animati si 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 qui ci sono le animazioni allora può essere pure in città ah si ecco qui vedete che cammina l'unino che cammina si si ma perfetto scusate vi ho detto una cavolata vabbè ragazzi vi auguro una buona giornata se avete commenti lasciateli pure se non li avete non fa nulla se volete guardarlo guardate altrimenti ignorate tutto buona giornata ragazzi